Siamo con Giuseppe Bucca, dirigente dell'SD Mazzara Scherma, domenica 7 settembre è il giorno della scherma non soltanto a Mazzara ma a livello internazionale e Mazzara ovviamente prende parte a questo grande evento, a questo grande flash mob che appunto vuole accendere i riflettori su questo sport Sì, la nostra federazione ha lanciato questa iniziativa del 7 settembre, coinvolgendo tutte le federazioni mondiali e pian piano ci siamo accorti piacevolmente che hanno risposto tutto in maniera positiva naturalmente anche Mazzara del Vallo non poteva mancare a questo appuntamento e noi come Mazzara Scherma abbiamo deciso di prendere questa location di piazza Mocarta sotto l'arco Normanno proprio per dare anche noi il nostro contributo e per unire praticamente tutte le piazze mondiali con il filo conduttore che è la scherma Praticamente già tutte le nazioni hanno postato le loro fotografie ma anche molte città italiane hanno postato fotografie e video del loro flash mob ognuno ha scelto una location particolare della propria città proprio perché si vuole promuovere anche la propria zona, la propria città Noi abbiamo scelto questa come location che è la più significativa, il bello è che tutte le fotografie verranno tutte accomunate tutti i video verranno messi tutti in hashtag Fencing Mob in modo tale da creare un libro fotografico dove ci sono tutti i momenti più belli di questa giornata La scherma intanto a livello italiano continua a riservare grandi soddisfazioni? Sì, ormai per noi fortunatamente è un punto certo, siamo tornati dalle Olimpiadi giovanili di Nanchino con nuovamente campioni nel medagliere abbiamo avuto tantissimi risultati anche da questo punto di vista dal settore giovanile e ora siamo pronti a partire con la nuova stagione che già subito da fine settembre inizieranno le gare anche a livello di qualificazione a livello regionale per poi iniziare con le prove nazionali perché per esempio noi la prima che avremo sarà Zevio a Verona, poi ci sposteremo a Lucca, faremo salso maggiore praticamente sto parlando soltanto dei primi due mesi della stagione Intanto siamo nella fase clou per così dire, nella fase forse quella più importante, la preparazione atletica che state svolgendo sul lungomare di Mazzara Sì, abbiamo scelto quest'altra location nuovamente significativa perché secondo noi è la zona più bella dove poter fare attività fisica abbiamo iniziato già da due settimane, nel frattempo stiamo lavorando perché abbiamo cambiato palestra quest'anno abbiamo preso la palestra del terzo circolo in via Livorno quindi stiamo lavorando perché abbiamo finalmente un locale molto più grande che ci permetterà sicuramente, almeno ci auguriamo, di poter lavorare nel miglior dei modi Per quanto riguarda la preparazione, sì, l'abbiamo fatta lì a lungomare, ora ci sposteremo nuovamente ci sposteremo nei nuovi locali e piano piano faremo altri 15 giorni di preparazione per poi iniziare il lavoro schermistico vero e proprio Ultima battuta, nuova stagione ma anche nuovo luogo societario che identifica ancora di più questa Mazzara scherma ben radicata appunto nel territorio l'Arco Normanno è il simbolo nuovo di questa società Dopo 45 anni di scherma Mazzara del Vallo l'anno scorso abbiamo deciso di creare un logo che rappresentasse non solo la scherma ma che potesse portare veramente il nome di Mazzara del Vallo in giro per il mondo e chi meglio dell'Arco Normanno poteva essere significativo da lì è nata l'idea di stilizzare l'Arco Normanno, metterci una maschera a fianco e di creare un nuovo nuovo logo, un nostro scudetto L'idea è piaciuta anche all'amministrazione comunale di Mazzara dal sindaco Cristaldi tanto che ha voluto il file per poter creare degresta da poter donare anche alle città amiche, ai nostri club amici non solo in Italia ma anche al mondo